Compattenti! L'idea della sinistra erede è quella di un'Italia più tecnica. La nostra idea non è così. Anche per quanto riguarda la loro razza, sicuramente bisognerebbe guardarle, perché un domani verrà a passeggiare tanti figli, tanti da queste tucche uniscue, che saranno schiazzati come uvache pianine, bianche e nere. I porti del consenso popolare, il suono delle sirene e delle ambulanze dovrà sovrastare quello dell'auto di polizia e carabinieri. Nel senso che le forze dell'ordine non dovrebbero avere pietà e mandarli tutti in ospedale. Ma guarda che sono le sette di ieri e di oggi, sono stati più ricercati, quindi... ...quindi sono stati 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 stati. Comunque speriamo che muoiano tutti. Eh? Sì? 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 Buffone! E vinceremo! Buffone. 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 Shes and me fight to the hell. Buffone. 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 Fights in the middle. Now! Buffone. Love me. Now! In the eyes, it's all after you. Buffone. Buffone. I'm gonna die. 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 Iivcs and me fight to battle twitches of hell. I'm gonna die. I'm gonna die. Love me. I'm gonna die. The girl. Ngruppe. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.